Ferdinando Paone, detonando, inizia la sua professione nel 1974, a Napoli, lavorando in varie compagnie teatrali, tra le quali fa spiccolente teatro cronaca di Mico Galdieri, gruppo nel quale lavora per cinque anni, interpretando una decina di commedie, in dialetto Amnon, tra le quali Assunta Spina è la buffa istoria di Capitan Fracassa. Con Ida Di Benedetto e Antonio Casagrande.